Sete la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano mentre è larga quella della perdizione. Il Signore per educare il suo popolo, non in un anno né in un secolo, ma diversi secoli, mette il suo popolo di fronte dei fatti molto concreti, molto materiali, per far comprendere questa distinzione, che seguire la volontà di Dio significa camminare in un sentiero di vita che introduce non solo in un benessere sulla terra, tutt'altro in un benessere che è quello della vita eterna. Questa maturazione tra il benessere terreno e quello della vita eterna è un processo di apprendimento che il popolo di Dio deve fare con tanta fatica. Non solo perché è difficile comprenderlo da un punto di vista intellettuale, non è questa la difficoltà, ma da un punto di vista pratico e ogni generazione viene messa alla prova su questa. Nonostante le esperienze di morte e di vita che Israele ha, Israele tende sempre all'errore, così come siamo anche noi, sappiamo tutto, poi facciamo le cose più sbagliate. E l'esempio della prima lettura, che è un esempio di storia, viene dal secondo libro dei re, è una vicenda che come schema si è ripetuto varie volte nella storia di Israele. Quando Israele devia dalle regi di Dio, i suoi nemici esterni diventano forti e lo saccheggiano, lo devastano, lo invadono oppure distruggono addirittura la città, la capitale e le città del regno e deportano i cittadini. E questo perché il popolo si allontana da Dio e si allontana da Dio in genere perché si allontanano prima i capi, ma i capi vengono dal popolo in genere. E i capi diventando lontani da Dio e anche idolati causano la rovina dell'intero popolo. Nel senso che quanto più uno è responsabile in vertice, la sua azione in bene o in male fa ricadere la sua responsabilità sull'intero popolo. Non solo per il fatto di buon governo, mal governo che hanno fatto quasi meccanico, ma proprio spirituale. Se il capo di un popolo è distante da Dio e compie il male, il suo regno va in rovina perché davanti a Dio è ingiusto e irreligioso o empio. Per cui il Signore lascia che le forze dall'esterno e dall'interno lo facciano cadere. Lo lascia di fronte alle conseguenze delle sue scelte, non senza avvertirlo. E' con l'azione dei profeti che dicono non fare questo, non fare quest'altro. E normalmente tutti i profeti vengono bastonati e ammazzati. E poi arrivano le rovine. E abbiamo due volte la deportazione del popolo di Israele con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio stesso. Ma in questo caso qui abbiamo un esempio invece che funziona. Nel senso che abbiamo il re di Assiria, il grande nemico di Israele, Sennacherib, che manda messaggeri a Ezechia, re di Giuda, e dice non ti illudere che confidi nel tuo Dio, Gerusalemme sarà nostra. Ezechia fa una preghiera privata davanti al Signore e chiede assistenza a Dio. E' una grande spida, vedete, non solo politico-militare, ma soprattutto spirituale e religiosa. Non fa una preghiera pubblica. La preghiera pubblica serve dire bandiamo un digiuno, tutti il regno, tutti quanti andiamo a pregare, digiuniamo, facciamo penitenza perché il Signore ci scampi. Lo fa solo in modo personale. Queste cose pubbliche sono state fatte, pensate a un popolo non credente come quello di Nineve, subito dopo il regno di Assiria, di Assiro-Babilonesi appunto, che si convertono alla predicazione del profeta di Israele che è Giona. Bandiscono un digiuno e Nineve viene risparmiata e non è il popolo di Dio. Ezechene invece non fa una preghiera pubblica, la fa privatamente, va nel Tempio e prega. E riceve la risposta dal profeta Isaia, il grande profeta Isaia, forse tra i più grandi, tutti i profeti. E gli dice la tua preghiera viene esaudita, tu verrai protetto dal Signore. Non temere, l'esercito della Siria era potentissimo, le due grandi potenze erano l'Egitto e la Siria. E quindi erano spacciati. In realtà, durante la notte, il Signore interviene e c'è un numero di uccisi nell'accampamento degli Assiri, sono 185.000 uomini. C'è una caribbe. Leva le tende, torna in Assiria e non si muove più contro Gerusalemme. Sa che non sono le forze umane che hanno fatto vincere Israele, ma si è messo contro un Dio più forte di lui. E quel Dio ha difeso il suo popolo perché il Re lo ha pregato. Dunque la fedeltà del Re, la pietà, la pietas, la religiosità, la fede del Re, salva un intero popolo perché il Signore interviene. E questa è la grande lezione. Ma questo avviene raramente, specie ai nostri tempi. Specie ai nostri tempi, dove si dice che lo Stato deve essere laico. può essere laico, però deve essere anche rispettoso della fede. E poi un capo di Stato, pur avendo anche uno Stato laico da governare, può avere la fede e privatamente pregare. E ci sono vari altri esempi, anche nel tempo della deportazione in Persia, dove la preghiera di una sola donna che era del popolo di Israele ma sposata con il Re persiano, salva l'intero popolo di Israele, deportato e ormai stabilito nella terra di Persia. Così ci sia di lezione che ognuno di noi ha una grande responsabilità per la fede ovunque si trovi, a seconda della posizione che occupa per tutti quelli che sono sottoposti dal capofamiglia, su, su, arrivando fino ai vertici più grandi. Chi sta al vertice più grande ha tanta più responsabilità su tutti, sulla vita e le morte di un intero popolo. Ma se veramente ha fede e ci tiene al suo popolo, chiedendo aiuto a Dio, Dio lo concede. Se l'ho dato, Gesù Cristo Dio lo concede. Grazie.